A Rullo di Tamburi, programma stato di Carpaneto, sale i rimini con 5 uomini diversi rispetto all'ultima apparizione col Villabiaggio nell'11 iniziale. Allotti, febricitante, fino al giorno prima, gioca a ritmo di pane e riso. Sarà i migliori insieme a Pasquini e Cicarevic, ma andiamo con ordine. Al sesto Cicarevic, apre per Pasquini, gran conclusione di quest'ultimo, Mercurio respinge corto, ben appostato Allotti, fa 1-0 per i biancorossi. L'attaccante di Coriano non perdona, ma causa febbre, evita di togliersi la maglia, come usa a fare di solito. Primo tempo a valo di emozioni, occorre aspettare il quarantesimo per un'altra azione. Dalla punizione di Righini, i rimini rischiano a doppio, attraversone al centro, colpo di testa di Traini, sottomisura, traversa piena, incredibile l'occasione divorata dall'attaccante. Da punizione nella ripresa, il Carpaneto si fa vedere per la prima volta, con questo colpo di testa di Silla, respinto da Scotti. Ma da corner, il portiere, deve alzare bandiera bianca, attraversone al centro, per la testa di Tognassi, che sottomisura, fa 1-1. Ma Rimini non ci sta, risponde nell'immediato, Martini manda in campo Buonaventura, che finalizza un'azione partita da Goyebre, con Ciccarevi, Ciccare Largo e gioco in favore di Arlotti, traversone al centro e in rete, numero 43 con i colori bianco-rossi, per l'attaccante, salito a quota 15 in campionato. Schema copio-incolla, visto precedentemente da parte del Carpaneto, traversone per la testa di Tognassi, Scotti compie il secondo miracolo di giornata. Nel finale, a 1-1 dalla fine, Silla inciampa su se stesso, il direttore di gara ci casca in pieno e assegna un penalty agli uomini di casa. I repreci mostrano l'evidente caduta dell'attaccante del Carpaneto. Dagli 11 metri, Rantier non perdona per il 2-2 finale. A gioire, non è solo il Carpaneto, ma è anche l'imolesi, che accorcia così le distanze dai bianco-rossi, portandosi questa sera a meno 9.